Oggi vi presento il libro illustrato Amici di Tutti di Guido Quarzo con illustrazioni di Sara Beneccino edito da Coccole Books, libri per prima, cioè dedicati ai primi lettori, perché è scritto in stampato maiuscolo. Va bene, lo ammetto, ho fatto la cosa sbagliata, ho perso la pazienza, ho esagerato, però non potevo sapere che il cartellone delle case nel mondo era appeso al muro con un chiodino piccolo piccolo che bastava niente a farlo cadere e nemmeno potevo sapere che la sticciola di legno che lo reggeva era così pesante. Credevo che fosse una bacchetta di plastica, perciò mi prendo la colpa di aver spintonato Marco, d'accordo, ma se il cartellone si è staccato dal muro e se l'asta di legno gli è caduta in testa e gli ha fatto un bernoccolo grosso come una prugna, che centro io! E comunque secondo me un bernoccolo Marco se lo meritava è come, invece a Marco nessuno ha detto niente, io una settimana senza videogiochi ecco che cosa ci ha ricavato e poi le sgridate di mamma, della maestra Enrica, della maestra Paola, perfino Davide e Claudia che sono i miei migliori amici, me ne hanno dette di tutti i colori E ora? Non c'è giorno che mamma non mi ripeta che bisogna essere amici di tutti E voi, siete amici di tutti? Chissà cosa succederà a questo ragazzino Vediamo un po' Amici di tutti di Guido Quarzo con illustrazioni di Sara Benecino, edito da Coccole Books Vediamo un po'